Le esperienze delle persone rapite sono totalmente autentiche. Non ho alcuna ragione per credere, per concludere, che sia accaduto qualcosa di diverso da ciò che mi hanno riferito. La mia professione è la psichiatria. Per due anni ho studiato attentamente più di 50 casi, durante centinaia di ore, giungendo alla conclusione che ciò che dicevano era la verità, che si trattava di esperienze reali e che ciò che era loro accaduto in talunni casi aveva creato gravi disturbi, ma in altri era stata un'esperienza illuminante. Vi sono infatti molti casi in cui dopo il prelievo di sostanze organiche un alieno alto piuttosto umano e che sembra dirigere i grigi ha mostrato ai rapiti i pericoli che l'umanità sta correndo. In molti testimoni ciò ha provocato una trasformazione interiore. La dimostrazione che siamo in contatto con un'altra intelligenza di cui, certo, non sappiamo l'origine, ma che ha già coinvolto centinaia di migliaia, o milioni di persone, questo fatto ci invita ad aprirci all'universo, ad una maggiore consapevolezza di noi stessi e dell'universo in cui viviamo. La nostra consapevolezza diventa più interessante, più viva, più ampia. Penso che ciò sia la cosa più importante nel nostro lavoro. Va aggiunto un altro aspetto misterioso del fenomeno, quello delle mutilazioni animali studiato da Linda Howe in molti paesi. È infatti un fenomeno diffuso, anche se se ne parla poco. Vi sono migliaia di casi di animali da allevamento e selvatici trovati in zone impervie, cui sono stati asportati organi, specialmente quelli riproduttivi, con una tecnica altamente sofisticata. Molti casi negli Stati Uniti sono stati certificati dall'autorità. Il motivo per cui questo fenomeno dall'inizio, cioè dagli anni Sessanta, è sembrato così strano, era che non c'erano tracce di sangue nelle ferite. E non c'era nemmeno sangue per terra. Non c'erano neanche tracce a turno all'animale, nemmeno le sue. In molte occasioni, è stata vista una luce scendere dal cielo. Tra i documenti in mio possesso relativi a centinaia e centinaia di casi da ogni parte del mondo, ho anche reso conti di testimonianze oculari, di fatti avvenuti in pieno giorno. Vi si legge che sono state viste delle creature non umane trasportare un vitello o una mucca dal pascolo verso uno strano oggetto non identificato. Più tardi, fu poi trovato l'animale mutilato sul terreno del pascolo. Oppure l'animale semplicemente è scomparso dalla fattoria. Vi sono anche una mezza dozzina di testimonianze oculari degli Stati Uniti, secondo cui è stato visto un raggio di luce scendere da un oggetto sospeso nel cielo, il raggio. A questo punto, giusto il tempo, perché i colleghi del telegiornale ci informino sui fatti di questo mondo, dopodiché noi torneremo a interrogarci sui fatti di altri mondi, per chiederci, ma il fenomeno degli UFO è un fenomeno recente o un fenomeno del quale si trova traccia già nell'antichità? Quello che vedrete vi colpirà. Vi faccio un esempio. Ci sono popoli che affermano di provenire dalle stelle, che di per sé potrebbe essere una non notizia, ma come mai? Cosa spiega il fatto che i Dogon, una popolazione di antiche tradizioni animiste che vive nelle fales di Bandiarà, nel Mali, abbia conosciuto l'esistenza della galassia di Sirio B, molto prima di noi uomini tecnologicamente avanzati, l'abbia descritta con una tale precisione che i nostri mezzi hanno potuto confermare solo recentemente? Chi gliel'avrà detto? A più tardi vi lascio al telegiornale.